Grazie Così Nel primo gioco Vediamo qui Inizia a sentire la nostra Ora, si capite? Eh? 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 Non saprate Un po' Ti dico? Sì Il mondo è scelto Ma già non è ricocato Si hai fatto un cambio Lui l'hai del sesto dell'uomo E non lo scopo quando ne ha fatti 43? sì quindi sono 220 più 43 giusto?